Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi in bibliche sull'Antico Testamento. Oggi proseguiamo la lettura del Libro della Genesi, la presentazione diciamo così sommaria del Libro della Genesi affrontando la figura del grande patriarca, il primo patriarca, il più grande di tutti, che è Abramo. Nella liturgia della Chiesa sappiamo bene che nella preghiera ocaristica prima, il cosiddetto canone romano che fino a qualche tempo fa era l'unica preghiera ocaristica della Chiesa latina, nomina esplicitamente Abramo, nostro padre nella fede e Melchisedec, sommo sacerdote, che vedremo essere direttamente connesso con Abramo già questa sera stessa, questa misteriosa figura che rappresenta quel sacerdozio che poi sarebbe stato il sacerdozio di nostro Signore Gesù Cristo, diverso tra l'ina levitica, non mettiamo troppe cose insieme in queste brevi parole introduttorie. Allora, breve presentazione, Abramo compare nel capitolo 12 del Libro della Genesi, subito dopo l'episodio della Torre di Babbele e quindi nel momento del nuovo inizio, c'è stato il diluvio universale, l'umanità ricomincia da zero, c'è una nuova impennata, diciamo così, di follia peccaminosa, diversamente sventata, diciamo così, da nostro Signore e dopodiché comincia la storia della salvezza con Abramo. Siamo intorno, secondo le datrazioni, Abramo sta intorno al XIX-XVIII secolo avanti Cristo, c'è chi lo ha antedato un po', chi lo colloca intorno al 2000, chi lo sposta un po' verso il 1870, cose di questo genere, però insomma l'arco temporale più o meno è quello secondo sempre la cronologia biblica. Sappiamo bene, penso che lo sappiamo in linea di massima, Abramo è colui con il quale il Signore comincia la storia della salvezza e sarà il capostipite del popolo di Israele, non solo del popolo di Israele, perché da Israele, da Abramo sorgeranno due linee, la linea di Isacco, da cui arriva poi Giacobbe e le dodici tribù di Israele, da cui appunto dai dodici figli di Giacobbe nascono le dodici tribù di Israele, quindi compresa la tribù di Giuda, qui appartengono al nostro Signore, la Madonna e San Giuseppe, che era la tribù regale. E però figlio di Abramo, come vedremo, c'è anche Ismaele avuto dalla schiava, da Agar e i discendenti degli Ismaeliti, sarebbero stati quelli che poi storicamente sono il ceppo della razza araba e quindi ecco perché anche i musulmani riconoscono in Abramo un patriarca comune, è di fatto il patriarca comune delle tre religioni monoteistiche che si rifanno evidentemente pure a diverso titolo e con diverse caratteristiche a lui, cristianesimo, ebraismo e islam. Questo tanto per introdurre un po' un personaggio che ha una figura assolutamente preponderante nell'arco del panorama biblico. Allora, io vorrei prima presentarvi un pochino, passiamo un po' la condivisione dello schermo, vorrei prima presentarvi appunto le slide, quindi il percorso che faremo un po', quindi la presentazione della figura di Abramo e poi andare a vedere evidentemente alcuni passaggi biblici in plurilingua ovviamente come sempre, che ci aiutino un pochino a penetrare non solo dentro la figura di Abramo ma anche evidentemente a trarre beneficio spirituale come sempre deve esserci dalla lettura della Bibbia che è sempre anzitutto una lettura spirituale che deve essere finalizzata la nostra edificazione, no? Allora, Abramo nostro padre nella fede, innanzitutto un riassunto di quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti, la creazione, il peccato e la evoluzione dell'umanità, Noè e il diluvio e Babele, questi sono i primi undici capitoli del libro della Genesi. Poi abbiamo la figura di Abramo, questa prima slide si chiama Dalla chiamata all'alleanza, la vocazione di Abramo, scritta appunto nel capitolo 12, nei primi sette versetti, la benedizione del Signore su Abramo, la promessa e l'alleanza e il cambio del nome, il primo snodo fondamentale. Penso che tutti sappiamo più o meno che nella Bibbia è di origine biblica il cambiamento del nome, cambiamento del nome che sapete poi per tanto tempo hanno conservato i religiosi, un tempo, specie quando si battezzavano gli adulti, lo facevano i cristiani nell'assumere il nome di battesimo, lo fanno per esempio ancora i pontefici che scelgono un nome differente atto ad esprimere il pontificato. Il cambio del nome è una cosa molto importante nella saga scrittura, anche perché il nome dentro la teologia biblica, non solo, designa proprio le caratteristiche profonde e la funzione di chi porta il nome, no? Pensiamo anche al nome di nostro Signore, il nome di nostro Signore è stato deciso da Dio, è l'angelo che l'ha trasmesso sia a Arcangelo Gabriele, a Maria che a Giuseppe, è il nome di nostro Signore tutto al programma perché Yeshua significa letteralmente Yahweh salva, quindi comprendiamo, no? Ora, è anche il nome di San Giovanni in Battista, deciso anche quello da Dio perché San Giovanni in Battista si è chiamato Giovanni perché Giovanni in ebraico, Yahannà significa Yahweh fa grazia. Il cammino di Abramo, quindi dopo questo primo arco temporale che va dalla chiamata alla alleanza, vedrà poi la nascita di Ismaele e da Agar, quindi questo passaggio diciamo così umano di Gesù, scusate, di Abramo. Poi il rinnovo della promessa da parte dei misteriosi tre personaggi, si vedono qui nella fotografia, chi sta seguendo il video con la slide di Mamre, poi vedremo chi sono, e poi l'epicello della distruzione di Sodoma e Gomorra e l'intercessione di Abramo. L'ultima, diciamo così, tranche di storia di Abramo è quello della prova. Tutti quanti conoscono il sacrificio di Isacco, ma evidentemente Isacco prima di essere sacrificato nasce e viene poi da Dio Cristo in sacrificio e poi al capitolo venticinquesimo del rinfo della Genesi troviamo la morte di Abramo. Questa è un pochino la presentazione delle slides. Ci saranno poi delle considerazioni alt-conclusive che le vedremo al termine di questa presentazione. Passiamo adesso a vedere un po', cambiamo la condivisione dello schermo, ok, vedo che Telegram è migliorata, e andiamo a vedere un pochino di testi, quindi di storia di Abramo. Spero che si vedano bene. Partiamo da Genesi 12. Bene. Il Signore disse ad Abramo, attenzione, qui si vede meglio in ebraico. Il nome antico di Abramo era Abram. Vedremo che quando poi il Signore glielo cambia come diventa, no? Vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò. Perentorio. Vedete come succede spesso nella saga scrittura, no? Nelle premesse, alla fine del capitolo 11, con i discendenti e patriarchi posti di Rubiani, si arriva a Terach, che era il padre di Abramo, no? A 70 anni genera Abram, Nacor e Aran e poi c'è la posterità di Terach. Importante è vedere che Lot è il figlio del fratello di Abramo. Particolare importante perché vedremo a un certo punto, non so se ci imbattiamo questa sera, ma nel corso della storia tra Abramo e Lot si vedrà questa cosa, che a un certo punto si chiamano tra di loro fratelli, cioè noi siamo fratelli, ma Lot non era il fratello di Abramo, era il nipote. È un passaggio importante per capire l'uso semitico del termine fratello ed è chiaramente una nota esegetica fondamentale per risolvere l'apparente aporia del discorso neotestamentario sui presunti fratelli di Gesù. Fratello in ebraico non significa fratello di sangue, fratello germano, come diciamo noi, ma vuol dire membro del clan. È vero che in greco c'è il termine del fos, ma come tante volte ho detto quando spiegavo questa cosa, gli autori neotestamentari sono tutti quanti ebrei che scrivono in greco, quindi sarebbe come se ci fosse oggi un italiano che scrive in inglese, però sapete il grande problema che noi abbiamo, a meno che non diventiamo proprio bilingue, che quando io scrivo in un'altra lingua è molto difficile imparare a usare perfettamente le sfumature dell'altra lingua, generalmente noi facciamo la traduzione simultanea, quindi traduciamo in lingua, se siamo bravi anche in maniera abbastanza corretta, la nostra lingua. Quindi cosa succede? Questi quando scrivono la del fos non ci vanno a pensare che in greco la del fos non è proprio come in ebraico, che sarebbe meglio utilizzare un altro termine per designare non i fratelli di sangue ma i cugini di Gesù. Tant'è, ecco quindi, l'importante è saperle queste cose, no? Le premesse importanti prima di di Genesi sono appunto, soprattutto quella del versetto 30 della Genesi, Sarai era sterile e non aveva figli e vanno a trasferirsi, Terak con Abram suo figlio e Lot, cioè figlio del suo figlio, a Ur dei Caldei, quindi quando partono si trovano ad Ur dei Caldei, in particolare a Carran, quindi da lì parte Abramo. A un certo punto il Signore appare e dà questo mandato, unito ad una promessa, farò di te un grande popolo e ti benedirò, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerò una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno, maledirò e in tesi diranno benedette tutte le famiglie della terra. Ed è qui c'è un... Allora Abram, Abram partì. Punto. In ebraico si chiama questa espressione il vav consecutivo, quindi Dio parla, dice una cosa, Abramo prende e risponde. Come gli aveva ordinato il Signore. E con lui partì Lot. Particolare che Abramo, quando lasciò Carran, aveva 75 anni. Con la moglie e con Lot. Vedete, attenzione, qui viene detto figlio di suo fratello. Attenzione al particolare, eh. Ben Ha'iv. Vedremo che più avanti verrà detto semplicemente Ach. Quindi senza, ecco. Due volte quindi viene specificato che Lot non è il fratello di Abramo, eh. E tutti i beni che avevano acquistati, tutte le persone si incamminarono, arrivarono nel paese di Canaan e alla quercia di More, il Signore appare ad Abram e gli disse, alla tua discendenza io darò questo paese. Quindi arrivano a Canaan e c'è la promessa. Questa è la terra promessa per i tuoi discendenti. Penso che tutti quanti noi sappiamo bene, cominciamo ad aprire una piccola parentesi. Prima che si compie questa promessa, sapete quanto ci passa, sì, perché la promessa sarà compiuta dopo l'esodo e dopo la conquista della terra promessa. Quindi siamo quasi mille anni dopo rispetto ad Abramo. non dico, insomma, ma 7-800 sicuramente, perché penso che posso anticipare un pochino di storia biblica, no? Isacco e Giacobbe, i 12 figli di Giacobbe, Giuseppe viene venduto in Egitto per invidia dei fratelli, si ritrova in Egitto, poi in Israele c'è questa grande carestia, solo in Egitto c'erano le provviste, nel frattempo Giuseppe era diventato un pezzo grosso, quindi uno dei ministri più fidati del faraone, preposto tra l'altro alle derrate alimentari e loro si vanno a ritrovare a chiedere da mangiare senza riconoscere al fratello, c'è la scena commovente, Giuseppe viene riconosciuto, insomma si trasferiscono tutti quanti in Egitto perché c'era la carestia e dopodiché muore il faraone e ne sorge uno che non ha conosciuto a Giuseppe e cominciano a soggiocare come schiavi gli israeliti e comincia al tempo della schiavitù in Egitto che dura 500 anni e mica una settimana, quindi questo per cominciare subito a dire che tutte le promesse del Signore si compiono nei Suoi tempi, specialmente per noi che siamo sul pianeta Terra, amici miei, con il Signore ci vuole, mi si perdoni il termine, tanta pazienza nel senso che non possiamo muoverci nei Suoi confronti con gli orizzonti e con le categorie umane. Le promesse del Signore si compiono tutte, tutte, sempre, quando sono promesse, se c'è una promessa, quella promessa si compirà. I tempi possono essere abbastanza lunghi, secondo il nostro orologio, certo che secondo l'orologio dell'Altissimo sono sempre abbastanza istantanei, va bene, questo tanto perché sia alimentata anche la nostra dedizione. Passiamo adesso direttamente al secondo step che è il primo momento della benedizione, non possiamo leggere evidentemente tutta la storia di Abramo, no? Passiamo al capitolo 14 e al momento in cui Dio benedice Abramo. Io lo chiamo Abramo, italianizzandolo, ma ricordiamo sempre che è ancora Abramo. Abbiamo il capitolo 14, versetti 17-20. Il momento della benedizione di Abramo passa attraverso l'incontro con Melchisedec. di ritorno, dopo la sconfitta di Ketor Laomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè del re. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo, Kohen le El Ion. e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. Abramo gli diede la decima di tutto. Detto questo, vedete, Melchisedec fa questa apparizione, due versetti, anzi tre, 18-19-20. Nella lettera agli ebrei, penso che molti sanno che San Paolo spiega come il sacerdozio di nostro Signore Gesù Cristo, come già dice il Salmo 110, non derivò dalla linea levitica degli israeliti. Sapete che negli israeliti, il popolo di Israele, la tribù preposta al sacerdozio e al servizio del Tempio, era la tribù di Levi. Quindi sicuramente un Caifa, sicuramente faceva parte della tribù di Levi. Il sacerdozio vedero testamentario faceva parte, ma Gesù faceva parte della tribù di Levi. Eppure lui è il sommo sacerdote dell'Antonomasia. Qual è la linea sacerdotale su cui si è inserita Gesù? Questa. E quali sono le caratteristiche di questo misterioso personaggio? Guardate che di Melchisedec compare dal nulla. Si dice, Melchisedec anzitutto significa Melech Malchisedec, cioè Melech Tzadik, quindi Re di giustizia. Poi Melech Shalem, Shalem, Re di giustizia e Re di pace. Quindi offre pane e vino. Capiamo, no? Era misteriosamente sacerdote del Dio Altissimo. Qui fino adesso i sacerdoti non si sa neanche chi erano nella saga scrittura. Così, sacerdote del Dio Altissimo come, dove, quando e perché non si sa niente. Benedice, così ricordiamo sempre la potenza delle benedizioni sacerdotali. Benedice Abramo, sia benedetto Abramo dal Dio Altissimo creatore del cielo e della terra. Attenzione che nella saga scrittura la benedizione, poi lo vedremo anche con il discorso di Giacobbe, di Esau e del carpire la benedizione. La benedizione nella saga scrittura è qualcosa di assolutamente decisivo. Se Dio ti ha benedetto, dai tranquillo. Quindi arriva la benedizione di Abramo attraverso il misterioso sacerdote. Questa è la prima figura misteriosa. Poi però vedremo che compariranno altre figure misteriose nella vicenda di Abramo, in particolare i tre misteriosi personaggi della quersia di Mamre. Poco dopo questo episodio, di nuovo il Signore si fa vedere ad Abramo, questa volta in visione. Egli dice delle cose molto belle, anche qui. Siamo al capitolo 15, versetto 1 del libro della Genesi. Non temere, Abramo. Io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande. Notiamo subito, ogni volta che il Signore si manifesta, questa è una bella parolina da imparare a memoria, al tirà. Iare in ebraico significa avere paura, temere. Quindi non temere, Abramo. Io sono il tuo scudo, bellissime parole, la tua ricompensa sarà molto grande. E Abramo risponde, Signore, ma che mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. A me non hai dato una discendenza, il mio domestico sarà il mio erede. E allora il Signore dice, no no, non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse, guarda in cera e contare stelle se riesci a contarle, e soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Vedete questo verbo, no, ve he emin, da cui deriva, il verbo è aman, da cui deriva il nostro amen, no? Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia, glielo conteggiò come giustizia. Penso che tutti sappiamo come San Paolo riprende questo passaggio proprio per esaltare la fede di Abramo, perché questa è una prima grande manifestazione di che cos'è la fede. Perché la fede aderisce con fermezza e senza dubbio a qualche cosa che, punto primo, appare tutt'altro che evidente. E in questo caso appare anche, non dico difficile, ma praticamente impossibile. Le stelle del cielo, quindi qui abbiamo una persona molto avanzata nell'età, con la moglie sterile, che gli viene detto, contare stelle del cielo, proviamo a immaginare la scena, tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che ci ha creduto. Nella Sacra Scrittura evidentemente di episodi, come dire, c'è un accostamento evidentemente il primo ovvio e spontaneo, un omaggio doveroso per il mese di maggio, ecco, ecco Maria, no? Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissima. Non soltanto la Madonna ha prestato il consenso, quindi con il Fiat, il che, insomma, ma ci ha creduto. Cioè, non è una cosa così scontata, insomma, che nasce un figlio senza concorso umano per opera dello Spirito Santo, insomma, e che quel figlio addirittura è il santo dei santi e il figlio di Dio, no? Quindi questa è la prima grande manifestazione biblica, il primo grande evento di fede, questo. Certo, anche Noè aveva creduto al Signore che gli aveva detto, costruisci l'arca e il saldiro universale, ma qui abbiamo proprio una manifestazione forte, bella, schietta, profonda, ecco, della fede. E poi arriviamo all'alleanza e al cambio del nome, capitolo 17. Attenzione, nel frattempo Abramo è arrivato a 99 anni. Ancora qui i figli in giro non se ne vedono, eh? 99, quindi 100 anni. Il Signore appara ad Abramo e gli dice, io sono Dio onnipotente, cammina davanti a me, si integro. Io porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso. Molto, molto. Abramo si prosta con la faccia al terra. E attenzione, Dio continua a parlare. Eccomi, anichinne, la mia alleanza è con te. Pensiamo anche qui, no? Ave piena di grazie al Signore è con te, no? E sarai padre di una moltitudine di popoli. Così come la Madonna è madre di una moltitudine di popoli, no? E per questo non ti chiamerai più attenzione a Abramo, in ebraico, ma vechayah shimha sarà il tuo nome Abraham, vedete qui. Ab, che è composto da due radicali, no? Av, che significa padre, e Raham, che significa moltitudine. Ti chiamerai Abraham perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò. Quindi, nel momento in cui, dopo la benedizione, seguendo i passaggi, eh, viene l'atto di fede e poi il sigillo dell'alleanza. Quindi, già però Abramo ha fatto un atto di fede. Da quell'atto di fede scaturisce l'alleanza e quindi l'elezione di Abramo alla sua missione. Cioè, una volta fatto quell'atto di fede e stretta l'alleanza con Dio, i francesi dicono, l'ece son fait, l'hien ne va più, cioè, è finito. Vedremo che ci sarà un passaggio, diciamo così, in termini sportivi si potrebbe chiamare, un passaggio a vuoto, nel senso che, a un certo punto, Abramo vede che questo figlio non nasce, dice, ah, Sara non me lo fa, facciamolo con Ismaele, tanto va bene lo stesso, facciamolo con Ismaele, scusate, Ismaele è il nome del figlio, facciamolo con Agar, che era la schiava, tanto sempre figlio mio, eh. E poi vedremo, insomma, come gli risponde il Signore, no? Ti renderò fecondo, fecondo, molto, molto fecondo. Qual è l'alleanza? Corro un pochino, scorro un pochino in basso, dice, questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi, la tua discendenza, sia circonciso tra voi e ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà otto giorni sarà circonciso tra di voi e ogni maschio e di generazione e di generazione. Tanto quello nato in casa come quello comprerato con denaro deve essere circonciso chi è nato in casa, tutti, d'accordo? Così la mia alleanza si sterrà nella vostra carne, come alleanza perenne. Attenzione che più avanti il maschio non circonciso ancora a 17-14 si è eliminato dall'altro popolo. Viene cambiato il nome anche a Sara. Quanto a Sarai, tua moglie non la chiamerai più Sarai, ma Sara, Sara, il nome Sara è più espressivo, diciamo così, del termine Sarai, perché Sara significa proprio, è molto molto bella l'etimologia di significato di Sara, no? Colleghi a potere come una principessa. Ecco. Attenzione, io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni, i re di popoli nasceranno da lei. Allora Abramo si prostice ad uno di cento anni e ride. Anche Abramo, poi riderà anche Sara. E' per questo che Isacco si chiamerà così, perché Isacco nel radicale ebraico ha a che fare con ridere. Ecco. Ad uno di cento anni può nascere un figlio e Sara all'età di novant'anni potrà partorire? Ecco. Dice, ma Abramo disse a Dio se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te dice, no, Abramo, non è Ismaele il destinatario della promessa. Tua moglie ti partenerà un figlio e lo chiamerà Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne. Quindi la mia alleanza passerà ad Isacco, non ad Ismaele. Per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. Però anche Ismaele io lo benedirò. e lo renderò fecondo e molto. Dodici principi e gli generai di più farò una grande nazione. Così è stato. Ma la mia alleanza con Isacco. E attenzione è che Abramo stesso a 99 anni si circoncide e circoncide tutti. Ismaele e tutti quelli che erano con lui. Ora, chiaramente questo passaggio che è molto importante cioè stare in alleanza con l'Altissimo è fatta. cioè se l'alleanza se Dio sta in alleanza con noi stiamo in barca stiamo. Adesso rimando perché l'alleanza della circoncisione perché la circoncisione attenzione sta al popolo di Israele come il battesimo sta a noi perché era attraverso la circoncisione che si entrava a far parte del popolo dell'antica alleanza. Ricordiamo che nella Chiesa Primitiva in questi giorni stiamo leggendo gli atti degli apostoli nel tempo di Pasqua si prospettò prestissimo il problema fu quello che diede luogo alla prima assemblea di Gerusalemme dice che cosa facciamo con i pagani che chiedono il battesimo? Li circoncidiamo e poi li battezziamo oppure non li circoncidiamo e li battezziamo direttamente? E qui c'era una doppia linea. San Paolo era assolutamente San Paolo pur essendo prima della conversione un fariseo di quelli proprio ultraortodossi o il sermosservante o il transista però aveva incontrato bene il nostro Signore e lui combattea a spada tratta per dire assolutamente no perché l'alleanza antica è decaduta con Cristo noi abbiamo la nuova ed eterna alleanza che non è più nella circoncisione qual è il segno della nuova ed eterna alleanza ai noi? è il sangue di Cristo questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza sangue che richiama il sangue lo vedremo più avanti quando faremo Mosè con cui fu detto a Mosè immolato l'agnello una notte di Vasco di aspergere gli stipidi delle porte di casa non abbiamo più un segno sul membro ma abbiamo il sangue di Cristo e noi siamo battezzati nell'acqua e nello spirito ma come dice San Giovanni sì quell'acqua con cui siamo battezzati è efficace quindi ci lava dai peccati perché quell'acqua è sgurgata dal costello di Cristo insieme al sangue l'alleanza nuova è il sangue di Cristo però il fatto che l'alleanza antica sia la circoncisione qui facciamo spot per un altro ciclo di catechesi che è appunto quello sul peccato originale chi mi segue chi la sta seguendo lo ricorderà come mai circoncidere il membro virile di ogni ragazzino con un gesto insomma abbastanza come mai attenzione Dio certamente fa cose proporzionate anche come dire alla situazione alla realtà e al contesto storico no ah però Dio non fa mai cose strane stravaganti a capocchia o inutili cioè infiniti erano i modi con cui poteva sigillare un'alleanza con Abramo certamente questo non era l'unico e perché proprio questo questo è una domanda a cui si c'è una risposta dentro certe come dire possibili prospettive letture del peccato originale stesso però rimando evidentemente per chi volesse approfondire a questo ciclo di catechesi no ora attenzione nel capitolo 15 purtroppo c'è stata dopo attenzione la promessa subito dopo la promessa la nascita di Ismaele questo perché Abramo riceve la promessa ecco sì la promessa mia moglie è sterile quindi vuol dire e nasce Ismaele in questo capitolo diciassettesimo io gli ho detto no no non è Ismaele è qualcun altro e nel capitolo 18 la promessa viene ulteriormente rinnovata attraverso quelle tre figure misteriose alla guercia di Mamre mentre li sedeva a sugli occhi vede che tre uomini stavano in piedi presso di lui appena li vede corsero l'incontro dall'ingresso della tenda e si postò fino a terra ora mio signore si è trovato grazie ai tuoi occhi eccetera eccetera si è vado a prendere andiamo a vedere però quello che poi gli dicono dov'è sarà tua moglie versetto 9 attenzione vedete parlando di questi tre uomini il signore riprese tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara tua moglie avrà un figlio ed è qui che si colloca l'ironia di Sara Sara risse dentro di sé e disse avvizzita come sono dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio ma il signore è qui proprio Adonai quindi Yahweh disse ad Abramo perché Sara ha riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia c'è forse qualche cosa impossibile per il signore quindi pensiamo alla nascita di Isacco quindi il popolo dell'antica alleanza attenzione qui c'è proprio un parallelismo evidente tra Abramo e Maria no? perché Isacco nasce miracolosamente da una sterile e attenzione il signore dice c'è forse qualcosa di impossibile per il signore nulla è impossibile a Dio mi sembra che l'arcangelo Gabriele abbia detto una madonna no? quindi c'è poco da ride perché questa è una cosa che si farà e infatti ci sarebbe fatta ora nel seguito del capitolo 18 c'è la distruzione di Sodoma e qui purtroppo si vedono anche i vecchi attenzione chiudo il discorso su questi tre personaggi misteriosi che dopo il testo stesso li decodifica come il signore la tradizione teologica fine tempi della patristica ha visto dietro questi tre personaggi una allusione allegorica ed anche una prefigurazione della Santissima Trinità noi sappiamo che nell'Antico Testamento non c'è la rivelazione della Santissima Trinità però ci sono delle spie per esempio il fatto che il nome Dio in ebraico che propriamente sarebbe El però molte volte nel testo si trova declinato al plurale cioè Elohim Elohim letteralmente vorrebbe dire Dei ma non c'è mai nessun contesto in cui si può correttamente tradurre Dei cioè si trova Elohim ma si deve tradurre Dio io ricordo quando stavo studiando l'ebraico in Terra Santa tanti tanti anni fa in una delle state più belle della mia vita l'insegnante madrelingua molto intelligente quindi un inglese ebreo britannico disse vedeva noi seminaristi e qualche sacerdote dice lì i cattolici dicono che quando diciamo Elohim è perché lì ci sta la Santissima Trinità però lo dicono loro però lo sapeva insomma che c'era stata questa lettura di questo versetto come un questo è un altro prodoromo Trinità certamente non c'era rivelazione della Santissima Trinità cioè se non ci avessimo avuto poi la chiarezza del Nuovo Testamento non avremmo mai immaginato insomma che Dio fosse Trino però con il senno di poi vedete le cose a volte il nostro Signore questo lo fa spessissimo lascia delle tracce che tu non capisci all'inizio lo capisci in un secondo momento quando puoi ripercorrerle alla luce di eventi successivi nelle profezie per esempio di difficilissima lettura questo viene sempre cioè la profezia di difficilissima lettura è quasi impossibile ricodificarla prima ma dopo che sarà accaduta se tu guardi in dieci ecco che cos'era e questo comunque è molto importante perché ti conferma che quella profezia veniva da Dio in quanto se viene da Dio sicuramente si deve realizzare ora i peccati di Sodoma a certo punto questi tre uomini dicono che è sempre il signore però il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande il loro peccato è molto grave voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il mare di cui è giunto il grido fino a me quegli uomini quindi sempre quei tre partirono e andarono verso Soma allora Abramo gli si avvicinò e gli disse davvero sterminerai il giusto con l'empio forse vi sono cinquanta giusti comincia poi la diatriba molto molto graziosa un passo molto molto famoso tra Dio e Abramo qui ci fa anche capire l'ascendente che hanno presso il cuore di Dio gli amici dice guarda ma può darsi che ci danno cinquanta giusti che fai secchi tutti per questi cinquanta se no se ce ne trovo cinquanta non faccio niente poi però la posta si abbassa sempre di più dice ma forse forse a quei cinquanta ne mancheranno cinque dice per quarantacinque fai secchi tutti dice no se ne trovo quarantacinque non faccio niente poi dice ancora ma forse ce ne saranno quaranta se ce ne stanno quaranta niente dice guarda non si a dire il mio signore forse ce ne stanno trenta non farò niente per questi trenta ma forse ce ne stanno venti non faccio niente se ce ne stanno venti dice scusi signore mio te ne dico l'ultima forse se ne trovano dieci il problema è che quando arrivano se non faccio niente neanche per dieci il problema è che quando arrivano gli angeli a Sodoma mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma Lot li vede andò loro incontro e si prostora con la faccia a terra e che succede? questi angeli apparsi in forma umana attirano le attenzioni dei Sodomiti che succede verso 19.5 chiamano Lot e gli dicono dove sono quegli uomini che sono entrati falli uscire da noi perché possiamo abusarne ecco qui la rivelazione del peccato di Sodoma da cui deriva penso che lo sappiamo insomma anche il vocabolo che si usa in lingua italiana che è la Sodomia i Sodomiti allora qui Lot dice no per carità non fate loro del male a destra e a sinistra ho due figlie dice guardate ve le porto fuori e state con loro perché non facete nulla a questi uomini perché sono miei ospiti ma quelli disposero di tirati via questo individuo è venuto qui come straniero per fare il giudice ora faremo a te peggio che a loro e spingendosi violentemente contro quell'uomo cioè contro Lot si avvicinarono per sfondare una porta però dall'interno quegli uomini sporsero le mani si trassero in casa Lot e chiusero il battente questi non sono uomini sono angeli ok e infatti quanto gli uomini che erano alla porta della casa li colpirono con una baglia ciecante la più piccola la più grande così non riuscirono a trovare la porta dopodiché questi angeli ordinano a Lot di uscire e dicono guarda che noi stiamo per distruggere questo luogo il grido innalzato contro di loro davanti al signore è grande e il signore ci ha mandato a distruggere via tutti escono e appena esce Lot che era l'unico giusto non ce ne erano dieci succede il finimondo quindi quando ecco il signore fece piovero dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco proveniente dal signore distrusse questa città tutta la valle con tutti gli abitanti della città la vegetazione del suolo ho detto tante volte che se uno va in terra santa oggi nei pressi del Mar Rosso dove sorgevano del Mar Morto scusate dove sorgevano Sodoma e Gomorra non cresce più neanche un filo d'erba quindi distrusse questa città attenzione la moglie di Lot guarda indietro famoso episodio e divenne una statua di sale episodio questo ripreso da Gesù nel Vangelo quando raccomanda che quando si tratta di fuggire da Gerusalemme in fiamme nessuno guarda indietro ricordatevi della moglie di Lot qui dietro questo episodio noi capiamo che nella letteratura biblica i misteri sono tanti le allusioni sono estreme e a volte compaiono improvvisamente allusioni allegorie senza che sembra che abbiano anche un nesso immediato con il testo e con il contesto il guardare indietro pensiamo a quel passo del Vangelo nessuno che volge mano all'aratro e poi si volge che mette mano all'aratro e poi si volge indietro e adatto per il regno dei cieli pensiamo anche alla visione di Ezechiele questi angeli che vanno sul carro di fuoco camminano davanti e non si voltano indietro non voltarsi indietro quindi anche qui vedete Sodoma e Gomorra simboleggiano il mondo del peccato uscire da lì significa dirigersi verso il luogo della benedizione voltarsi indietro è come dire come dire riguardiamo un pochino se ti volgi indietro a riguardare come dire il peccato che hai lasciato come dire diventi una statua di sana nel senso che non resterai imprigionato e non ne esci più ecco la distruzione di Sodoma e Gomorra poi finalmente al capitolo ventunesimo la nascita di Isacco ci andiamo rapidamente che dobbiamo andare verso il termine il signore visitò Sara come aveva detto e il figlio Sara come aveva promesso Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia nel tempo che Dio aveva fissato Abramo chiamò il figlio Isacco che gli era nato e che Sara gli aveva partorito Abramo circoncise suo figlio Isacco quando aveva otto giorni come Dio gli aveva comandato e sto cercando aspettate ok Isacco come già gli accennavo ha a che fare con il riso Sara disse motivo di lieto riso e mi ha dato Dio chiunque lo saprà sorriderà di me che il bambino Agriber fu svezzato eccetera ecco poi c'è l'episodio famoso anche qui tutta la letteratura patristica che Sara vide che il figlio di Agar cioè Ismaele giocava con il figlio Isacco e dice no 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 scaccia questa schiava al suo figlio perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco sarebbe troppo lungo adesso qui andare a dissertare su tutta la letteratura che stava scritta su questa cosa qui no comunque Adamo cerca di 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 mediare un po' però dice ascolta la parola di Sana fallo andare ti preoccuparci penso io lo farò diventare una nazione grande ma die che va e poi c'è il celebre episodio vado un pochino veloce del famosissimo sacrificio di di Isacco no quindi ci troviamo nel capitolo un attimino capitolo 22 del libro della Genesi quindi abbiamo seguito la storia Isacco nasce miracolosamente la promessa la partenza dalla terra lontana eccetera eccetera dopodiché un bel giorno Dio mette alla prova Abramo il verbo fondamentale è nasà nasà vuol dire proprio mettere alla prova vuol dire proprio fare un test vediamo cosa succede questo episodio è importantissimo perché ci fa capire una cosa importantissima perché Dio ha messo alla prova Abramo ma Dio mette alla prova tutti coloro che gli sono graditi ne sono esclusi quindi la prova è naturale nella vita di un figlio di Dio e anche noi dovremo passare attraverso una serie di prove c'è un bellissimo salmo che ne dirò al Signore in ogni tempo che dice molte prove attendono il giusto ma lo libera da tutte il Signore noi le prove ci sono perché possiamo e dobbiamo superarle la prima prova del genere romano è stata una prova che non è andata bene perché il test dell'obbedienza Adamo l'ha fallito e evapore Abramo viene messo ad una prova pazzesca anche qui i fiumi di commenti sull'episodio del sacrificio di Sacco compreso poi le bellissime opere d'arte io ho un debole per Caravaggio quindi il sacrificio di Sacco del Caravaggio è un'opera d'arte meravigliosa proprio che farò vedere bellissima questa cosa qui ed è impressionante seguire il testo penso che lo conosciamo un pochino tutti quanti prendi alla prova prendi il tuo figlio il tuo unico figlio va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò ora dovete sapere che la tradizione antichissima sapete che nella moschea una delle due moschee che sta sulla spianata dove sorgeva il tempio di Gerusalemme i musulmani venerano la pietra dove si è dove si sarebbe diciamo così compiuto il sacrificio di Sacco il monte Moria il monte su cui poi sorgeva un tempo il tempio di Gerusalemme quindi il luogo del sacrificio di Isacco era molto prossimo e sarebbe stato quello se Gesù non andava a essere crucifisso fuori delle mura quindi il figlio di Isacco il figlio di Abramo risparmiato teniamo sempre presente l'analogia Abramo Maria e Isacco Gesù quindi stessa identica cosa e anche la Madonna poverina non ce l'ha portato lei il Signore ma ce l'ha portato col cuore l'ha accompagnato solo che arrivati alla vetta del Calvario non c'è stato nessun angelo che ha fermato i colpi dei chiodi ma il nostro Signore è croce ci è andato sul serio ci sono le scene come il terzo giorno no alziamo Abramo alziamo gli occhi e vide quel luogo adesso andiamo su e poi c'è la domanda no qui padre mio dice ecco qui il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello per l'olocausto Abramo rispose Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto no Dio provvede come si deve rispondere nei momenti di grande prova della nostra vita ma quel polaccio ma che doveva lui non lo sapeva come sarebbe andato a finire Dio provvederà cioè Dio si inventerà qualcosa perché se non si inventa niente io quello quello che devo fare lo devo fare pensiamo all'enorme valore parenetico per la nostra esistenza insomma che hanno che ha questa questa vicenda di di Abramo no Abramo costruisce l'altare colloca la legna lega il figlio pronto col coltello in mano versetto 10 ma l'angelo del signore lo chiede alla cera dice fermi tutti ad non stendere la mano contro la gara ora so che temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio il tuo unico figlio il timore del signore è chi il re Elohim non temere non temere da un lato ma temi dall'altro allora capiamo il gioco noi non dobbiamo avere paura di Dio ma dobbiamo avere il santo timore di Dio il santo timore di Dio significa che io faccio qualunque cosa pur di non dispiacergli o disobbedirgli detto proprio in termini molto molto comprensibili e molto molto semplici Abramo vede vede la riete e chiamò a quel luogo il signore provvede perciò oggi si dice sul monte il signore provvede ecco e in seguito a questo Dio dice perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo unico figlio che dice la rinnovazione della benedizione ancora io ti benedirò con ogni benedizione renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lito del mare vedete e saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra perché tu hai obbedito alla mia voce sciamatta becolì e questa è la cosa più grande di Abramo capitolo 25 del libro della Genesi narra poi la morte allora volendo un attimo trarre un po' di considerazioni conclusive dalla vicenda di Abramo che cosa possiamo dire torniamo alle slide allora numero uno che la fede è una chiamata chiamata Abramo è nostro padre nella fede la fede parte sempre da Dio la chiamata di Abramo parte da Dio quindi la fede viene dall'alto non ce la possiamo dare da soli la chiesa ci insegna che è una virtù teologale cioè se non ti viene infusa dall'altro non te la puoi dare da sola però la fede è anche un cammino Abramo nella fede è cresciuto si è confermato ha avuto dei momenti in cui l'ha esercitata la prima benedizione la prima promessa conta le stelle fidati che ti farò nascere un figlio da Isacco l'ha accorto quindi portami Abramo in sacrificio la fede esige le opere che sono le opere della fede si chiama San Paolo ma sono opere grosse d'accordo cioè una vita pensate semplicemente la prima grande opera partire da Carrano noi capiamo che ci troviamo in un contesto storico sociale caratterizzato dall'allevamento e dalla dalla pastorizia e dall'agricoltura cioè se tu lasci la tua terra con tutto quanto il tuo clan cioè non è come oggi capite cioè è un qualche cosa vuol dire lasciare tutte le sicurezze possibili immaginabili e verso ignota destinazione eh questa è stata soltanto la prima delle molte opere compiute da Abramo affidandosi in nome della fede oh abbiamo visto anche che la fede viene provata prove della fede pensare che Dio c'è che Dio è fedele che anche quando tu non capisci si va avanti non si dubita eh queste sono cose abbastanza impegnativi e infine la fede rende amici di Dio ripensiamo al particolare insomma no ci siamo andati un pochino veloci perché fare le catechie bibliche sull'antico testamento è un pochino complicato perché voi capite che su quello che ci siamo detti questa sera avremmo potuto farci dieci incontri dieci tranquillamente però capite che l'antico testamento è un materiale enorme quindi eh dovendo fare una presentazione bisogna necessariamente cercare di essere il più possibile esaustivi eh quindi andando attraverso i passaggi scelti ma anche un pochino sintetici no in ogni caso la fede rende amici di Dio alleanza con lui suo amico eh ti puoi permettere anche il lusso insomma di andare a intercedere perché se c'è qualche giusto succeda qualcosa e poi giusto perché c'è proprio nessuno tocca metterci la parola punto no bene questa è un pochino la presentazione di Abramo chiedo scusa a nostro signore ad Abramo stesso se sono stato un po' troppo sintetico ecco spero però di aver di essere riuscito diciamo a presentare questa straordinaria figura da cui tutti quanti discendiamo e che è il nostro padre e il nostro aiuto nella fede alla cui intercessione ci affidiamo chiedendogli chiedendo anche a lui che la nostra fede mai sia persa ma sempre più come la sua cresca verso una immensa perfezione ci vediamo se ti vuole la prossima volta per la prossima catechesi di un benedica e la Madonna tutti vi protegga e la prossima volta